Due giorni fa in Senato avete presentato il SIA, Sostegno per l'inclusione attiva. Quanto in questa misura c'è del Reis delle Acli? Ci sono molti punti di contatto. Il Sostegno per l'inclusione attiva non è soltanto un sostegno monetario, ma è veramente un impegno, un patto tra persone in difficoltà e istituzioni per assicurare che i bambini, per esempio i figli, vadano a scuola, che ricevano assistenza sanitaria, oltre che naturalmente c'è un impegno per cercare il lavoro. Allora in questo senso ci sono molti punti di contatto con la proposta che ACLE e Caritas avevano fatto nel mese di luglio e in questo senso direi che il Sostegno all'inclusione attiva prende del meglio di tutte le proposte, non solo nazionali. Per questo spero proprio che venga preso in considerazione anche nella prossima legge di stabilità. Dopo la presentazione in Senato quali saranno i tempi per l'iter per l'approvazione del SIA? Il fatto che nella nota di aggiornamento al DEF si citi proprio il sostegno dell'inclusione attiva come una risposta a una delle raccomandazioni dell'Unione Europea, così come abbiamo avuto raccomandazioni sul deficit, così come abbiamo avuto raccomandazioni sulla scuola, sulla revisione dei servizi all'impiego. Ecco, c'è anche una raccomandazione per la lotta alla povertà, in particolare per le famiglie con un numero di bambini elevato. Questo è esattamente quello che noi vogliamo fare e quindi sono abbastanza fiducioso che nella prossima legge di stabilità ci possa essere l'inizio di un percorso che sappiamo essere costoso ma che non per questo deve essere accantonato.